Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video dedicato all'apertura dei calendari dell'avvento. Oggi per me è sabato 17 dicembre quindi non perdiamo altro tempo andiamo subito ad aprire le caselline dei calendari appunto di oggi 17 dicembre e vediamo un pochino cosa ci riserveranno. Primo calendario di oggi come sempre perché l'ho riservato come primo calendario eccoci col calendario dell'angelica andiamo ad aprire e cercare il numero 17 trovato subito perché è proprio qua davanti vediamo un pochino cosa ci sarà oggi ok questa mai provata e mai vista devo dire. Tisana di oggi appartenente alla linea superfood questa qua ha la moringa, zenzero e vaniglia. Questa non l'ho mai provata ma ho sempre sentito parlare bene delle proprietà appunto della moringa. Vedremo un pochino come sarà. Comunque sia ha la vaniglia quindi dovrebbe anche essere abbastanza dolce. Passiamo al calendario pompadour. Calendario pompadour cerchiamo il numero 17 eccolo qua sotto vediamo un pochino cosa c'è. Accidenti ma porca miseria ogni tanto qualcuno si rompe proprio del tutto eh ok. Tisana ai frutti di bosco e vitamine anche questa mai provata perché come sapete queste tisane ai frutti io non le ho mai diciamo scelte per i miei acquisti nel senso dover prendere un pacco intero di queste tisane ai frutti non mi ha mai ispirato perché so che magari è un gusto che non può è un gusto che può non piacermi tanto quindi non ho mai preso una confezione intera però questo calendario così è l'occasione per provare appunto tutti i gusti che non ho mai comprato e vedere un pochettino se mi piacciono. Comunque tisana in frutti di bosco e vitamine. Passiamo ora ai calendari beauty. Calendario del Rossmann il numero 17 è proprio davanti davanti oggi con il suo spoiler che ci dice you are special handle with care. Vediamo un po' cosa ci sarà. Ok. E oggi troviamo uno di questi guanti per doccia. Io ne ho già un altro paio che avevo acquistato io però devo dire che sono invecchiati parecchio e avevo intenzione di ricomprarli per sostituirli però buono trovato nel calendario. Calendario Balea cerchiamo il numero 17 anche questo qua proprio davanti oggi. Vediamo un pochino. Ok vediamo cosa sarà. E oggi troviamo questo flacconcino fatto così a spray. E vediamo un po' esattamente di cosa si tratta. Purtroppo sono senza linea internet. Maledetto telefono. Io non so perché va e viene così frequentemente ma lo odio. Comunque a intuito dovrebbe essere uno spray per i capelli. Di quegli spray che si usano per lo styling finale. Comunque curioso di provarlo. Penso sia anche questo al gusto di... al profumo di fiori d'inverno. Quindi vediamo un pochino la profumazione che poi avrà. Passiamo adesso all'ultimo calendario della Degusta Box. Ok calendario Degusta Box. Vediamo un pochino cosa ci sarà oggi dopo la bella sorpresa di ieri che c'era la crema spalmabile dei pandistelle. Vediamo cosa ci sarà nel 17. Vediamo un pochino. Il 17 è proprio qua sotto e vediamo subito cosa c'è. Ok. Del marchio Isola Bio è questa bevanda biologica a base di avena. Io non sono solita prendere queste bevande così vegetali perché comunque sia grazie a Dio non ho alcuna intolleranza al lattosio. Quindi preferisco comprare direttamente il latte perché sono abituata così. È una mia cosa personale anche se comunque sia in certe diete o che ho assaggiato varie bevande biologiche come ad esempio quella al cocco, quella alla mandorla. Però all'avena non l'ho proprio mai provata. Comunque dato che l'abbiamo trovata nel calendario la proverò di sicuro e vedremo un pochino come sarà. Anche perché comunque sia non ho queste grandi difficoltà di gusto. Io mi piace praticamente tutto e mi accontento di tutto e purtroppo mangio di tutto. Ok anche per oggi appuntamento terminato. Anche oggi abbiamo trovato dei prodottini abbastanza interessanti. Vedremo un pochino man mano che li proverò. Se vi interessa chiedetemi come mi sono trovata perché magari vi faccio sapere se poi li volete acquistare e provare anche voi. Ragazzi come sempre io vi mando un grosso bacio. Vi ringrazio di aver visto anche questo video. Vi do appuntamento a domani che è domenica 18 dicembre.